l'intervento di chiusura. Buongiorno a tutti, io mi devo innanzitutto scusare per il ritardo. Mi devo scusare per il ritardo di oggi e per il ritardo di questi ultimi 18 anni, in cui il governo non è venuto con il Presidente del Consiglio in Argentina, in realtà c'è un altro motivo per cui devo scusarmi, con i ragazzi delle scuole, oggi è vacanza in Argentina, vi hanno costretto a venire qui, vorrei darvi il mio abbraccio e la mia solidarietà e il mio affetto. Un saluto all'ambassadrice, un saluto al Presidente, un saluto a tutte le autorità, un saluto alla squadra di nuoto della Polizia, che è qui per caso, perché è qui per là, facciamogli un applauso, in bocca a lui, sono qui perché è la Coppa del Mondo, giusto? Un saluto poi a tutte e a tutti gli italiani, io ho fatto uno scherzo prima quando Franco parlava dicendo che è uno strano miscuglio di regioni, io vengo padre toscano e madre che aveva, il nonno, cioè il padre di Cesena, la Romagna, quindi la piadina possiamo discuterne, madre, la nonna materna tra Napoli e Bari, quindi possiamo discutere della pizza e delle orecchiette in modo abbastanza serio, ma tutti noi siamo un grande miscuglio di storie ed è la cosa più bella, perché in questo Argentina e Italia condividono un grande valore, solitamente diciamo che noi siamo dei paesi, quando i paesi sono molto vicini, diciamo sono dei paesi cugini, però nel caso dei livelli dell'Argentina è qualcosa di più, noi possiamo essere cugini con i francesi, ma Argentina e Italia sono nazioni sorelle più che cugini e credo che sia molto bello che ci siano dei valori comuni, voi ne avete detto alcuni, avete anche segnalato con il LIA alcune cose da cambiare, ma avete detto le cose più affascinanti che ci legano, che è i sentimenti profondi di voglia di vivere secondo un certo spirito, secondo certi valori, ora io però prima di entrare nel merito, faccio veloce, che è l'ora di andare a pranzo, ma vorrei domandarvi, i ragazzi delle scuole, chi di voi non è mai stato in Italia, sulle mani? Bene, di quelli che sono stati in Italia chi c'è stato negli ultimi tre anni? Chi è andato a Milano per l'Expo? L'abbiamo visto? Poi quali altre città avete visitato? Ditemi. Bologna, chi è stato a Bologna? Sì, bene, lui mi sa che è una colonia di bolognesi. Poi altra città, chi chi lo dice? Torino. Torino, dove sono i torinesi? Chi ha parenti piemontesi e torinesi? Qui di italiani che sono arrivati in Argentina con i parenti piemontesi, uno è anche tornato in Italia con un ruolo molto importante, in Vaticano, non in Italia, quindi è... Poi oltre ai piemontesi chi abbiamo? Toscani, chi c'è di Toscani? Qual è la città più bella Toscana? Questa è facile, ragazzi, non dite voi, sono tutte bellissime le città della Toscana, naturalmente, tutte. Ecco, chi ha detto lui in chiarezza possiamo riprendere il passaporto, gentilmente abbasciatevi, grazie. Oh, questa era buona, la risposta era buona. Poi, basta ragazzi, non facciamoci riconoscere, noi che siamo uguali, argentini italiani, però non facciamoci subito riconoscere su questo, va bene. E se dovessi dire qual è la cosa dell'Italia che più, ora però rispondo soltanto ai ragazzi, di cui più avete sentito parlare, un quadro, anche la piadina volendo, però vai, dimmi tu. La pizza, bene, infatti, un quadro, un museo, la pizza, bene. Poi, è così ragazzi, la pizza è un'opera d'arte, quindi non fa vero niente. Bravissimo, come ti chiami? Come ti chiami? Già, Paolo e tu? Gabriele, che hai detto della pizza? Gabriele o Gabriele? Gabriele. Gabriele, quindi perfetto. Gabriele, c'è un altro argentino che a Firenze ha fatto tante belle cose, Gabriele Omar si chiama, vabbè, allora si chiama. Poi, che cosa c'è oltre alla pizza, qual è la cosa più bella dell'Italia per te? La storia. La storia. E qual è il personaggio della storia che ti piace di più dell'Italia? La tua compagna si è battuta al suolo. Giulio Cesare era un personaggio interessante, è vero, sono d'accordo. Poi, che altro cosa c'è? La storia, la pizza, qui davanti, vai. Dimmi. La? La storia dell'arte. E qual è l'opera più bella che secondo te c'è in Italia, di storia dell'arte? Il Davide. Il Davide, questo è Davide Michelangelo. Questo è preparato benissimo, poi ottimo lavoro. Il Davide Michelangelo che è in questa importante città toscana di cui non possiamo parlare. E poi cos'altro c'è di bello, raggiù in fondo, vai, dimmi. L'industria delle macchine, quindi bene. E qual è, vabbè, poi ci sono grandissimi piloti argentini, penso a Fangia, no? E poi c'è la storia, non parliamo della Pirelli qui, perché giustamente se no c'è il conflitto di interessi, ma è vero anche questo. Poi altre cose belle dell'Italia, raggiù in cima, vai. Il Colosseo. Il Colosseo. E beh, il Colosseo è... Chi di voi ha visto il Colosseo sulle mani? Vabbè, ragazzi, voi lo immagino, cioè io la capisco. Se non avete visto il Colosseo ho visto qualche... Bene, ultime due cose. Vai. Sì. La Nutella. La Nutella. E la Nutella ha... E la Nutella ha un suo spessore morale. Pensa che durante l'Expo c'è stata, non posso dire chi, una polemica con un nostro paese amico, un paese alleato amico, che ha detto che il materiale con cui si produceva la Nutella aveva dei problemi. In realtà era una polemica sbagliatissima e ingiusta, si è rivoltata tutta l'Italia. Nel giro di otto ore questa nostra importante alleata ministra di un altro paese ha subito detto, non lo scherzavo, sbagliato, scusate, non lo faccio più. Abbiamo detto Nutella, eccolo lì, però spengi il telefonino che c'è proprio qui in testa. Dimmi. La... Buone, buone. Va bene. Siamo un paese democratico, ecco. È vero, è una grande squadra, come il Napoli, la Fiorentina, l'Inter, la Roma, tutte. Poi, vabbè, di me. La pasta. La pasta. Che tipo di pasta preferisci? Gli spaghetti. Gli spaghetti. Sapete però qual è la cosa strana? Che quando io ho chiesto qual è la cosa più bella d'Italia, poi mi hanno detto anche tante altre cose di cui non abbiamo parlato qui. Qualcuno mi ha detto il vino, qualcuno mi ha detto il paesaggio, qualcuno mi ha detto la straordinaria bellezza dei... delle campagne, che sono una cosa... voi qui conoscete bene quanto è bella e importante la terra e quanto è fondamentale poter avere un buon rapporto con la terra. Bene. Però la cosa più bella che mi è stata detta è che qualcuno, un imprenditore importante, il capo di un'azienda grande, grande, di una delle più grandi aziende del mondo, mi ha detto gli ingegneri. Tu vuoi fare ingegneri? Tu studierai per ingegneri. Ha detto che una delle cose più belle dell'Italia è la qualità degli ingegneri. Io allora facevo il sindaco di Firenze, pensavo che mi dicesse gli uffizi, il Davide, gli ingegneri. Mi fa coltito perché è una cosa bella. Però se c'è una cosa bella che secondo me è tipica dell'Italia e che io ritrovo fortissima nel popolo argentino e nei valori che costituiscono l'Argentina è il senso profondo dell'amicizia, è il senso profondo di ciò che vale davvero nella vita. È il fatto che sì, noi siamo tutti circondati da persone, chi di voi studierà economia o studia economia, qualcuno dell'IA studia sicuramente economia giustamente, che ci raccontano che ci sono dei valori economici importantissimi, ma c'è un valore ancora più grande. È l'idea che la vita non è un insieme di giorni da mettere uno sopra l'altro, che la vita è qualcosa che va vissuto, gustato nella sua bellezza. E questa è quella cosa che secondo me l'Italia e l'Argentina ci insegnano, e si insegnano reciprocamente. Allora è molto bello che ci siano quattro scuole qua che raccontino le nonne ai nipoti, come ci ricordavi tu prima, la bellezza del paese, anche attraverso i canti, per chi segue l'Italia è appena finito il Festival di Sanremo, per adesso da qui al prossimo anno c'è da aspettare il prossimo Festival di Sanremo. Ma la cosa più bella, la cosa più grande, secondo me, è questo valore che ci porta a gustare la vita nello stesso modo. Allora io non vorrei prenderla troppo alla larga, anche se poi, nonostante che sia un politico italiano, finisco subito, non parlerò per ore. Però la cosa più bella e più grande che c'è è questa. Poi ci sono un sacco di cose meravigliose da condividere. L'Argentina e l'Italia possono fare tante cose insieme, devono farle, io sono qui per questo. Il vostro Presidente verrà poi in Italia, avete visto oggi il Presidente del Consiglio, abituatevi, l'Ambasciatrice lo sa che nei prossimi mesi vedrete un sacco di Ministri italiani venire qui, noi vogliamo scommettere con forza sulla ripartenza dei nostri Paesi e siamo sicuri che potremo farlo in tanti settori. Vedrete come nei prossimi mesi, alla fine l'Ambasciatrice sarà costretta a dire basta, no non lo dirà mai, però faremo visite, incontri, delegazioni. Però prima ancora che per parlare degli affari, delle cooperazioni culturali, oggi pomeriggio sarò all'università, prima ancora che per discutere del valore dello sport, l'abbiamo detto, del calcio, domani se mi riesci vado anche a vedere lo stadio del Boca Juniors. No, non posso andare, perché è bellissimo anche le iniziative sul sociale che fanno le squadre di calcio, che è molto importante per portare i bambini, i ragazzi fuori da situazioni anche di difficoltà e dovremo farlo sempre di più in tutti il mondo, perché noi abbiamo bisogno che questi valori ci aiutino a essere dei bravi e grandi cittadini. E allora uno potrebbe dire dovresti parlare di tante questioni, dovresti parlare delle riforme, dovresti parlare della cultura, dovresti parlare anche di tante iniziative sullo sport che vogliamo fare. Noi vogliamo candidare Roma ad essere la città olimpica nel 2024, l'Expo è andato molto bene, speriamo che riusciamo a ottenere questo grande risultato di Roma 2024, ma la prima cosa che voglio dirvi è che io qui mi sento in una nazione sorella, mi sento come a casa, perché quello che ci lega non è l'assonanza della lingua, voi la parlate molto bene e voi parlate molto bene l'italiano, se io mi metto a parlare spagnolo vi mettete tutti a ridere, però comunque l'assonanza si capisce, si sente qui, quindi c'è una somiglianza, ma la più grande somiglianza non è sulla lingua, non è sul modo di vivere, non è nemmeno sulla piadina che fate anche qui, o sulla carne o sullo sport, la più grande somiglianza è sui valori. Allora finisco, i vostri nonni, chi di voi ha dei nonni che sono andati via dall'Italia, quando sono partiti forse non erano contentissimi di partire, perché il mondo dell'immigrazione 30, 40, 70, 100 anni fa era tutta un'altra cosa. Oggi naturalmente quando uno decide di pensare a quella stagione lì, magari gli si stringe un po' il cuore, pensate al viaggio dei vostri nonni o dei vostri bisnonni, forse probabilmente in nave, qualcuno anche in aereo naturalmente, ma pensate ai nonni e bisnonni che lasciano l'Italia, decidono di lasciare un paese e magari legano la valigia con la corda, cercano di portare dentro tutti i ricordi di noi, non esisteva il telefonino e non esistevano le comunicazioni, si scrivevano lettere che arrivavano giorni e giorni, settimane e settimane dopo. Eppure quando sono arrivati qui, magari ripartendo da capo, hanno trovato un paese che li ha ospitati, che li ha accolti, un paese in cui hanno potuto fare grandi cose. Il vostro Presidente della Repubblica viene dalla stessa esperienza. Bene, quel paese vi ha accolto e oggi è giustamente la vostra casa, ma fortunatamente il mondo è diverso. Il mondo oggi non è più un mondo distante, lontano, è molto più semplice, specie per le nuove generazioni muoversi. E allora io vorrei invitarvi ad essere cittadini del mondo, orgogliosamente argentini e chi di voi ha sangue e passaporto anche orgogliosamente italiani, ma cittadini del mondo, aperti alla bellezza di questo mondo senza frontiere. E portando non più un'emigrazione che era una fuga, ma un'emigrazione che diventa scambio di idee, come quelle che avete lanciato voi, che è scambio di proposte, che è la volontà di vivere non da comparse, ma da protagonisti della vostra vita. Allora in questi due giorni, anzi in queste 24 ore, noi facciamo un sacco di incontri, spero che vadano bene, sono sicuro che andranno bene. Tante realtà italiane sono pronte a investire di più in Argentina, siamo sempre pronti a accogliere dal nostro punto di vista investimenti argentini in Italia, ma il più grande investimento è quello sulla nostra amicizia. Allora io vi dico così, quando tutti visiterete l'Italia e non vedrete soltanto il Colosseo o il David o le cose che avete citato, portate ciascuno di voi nel cuore un pezzettino il sentimento di emozioni che avevano i nonni, i bisnonni che hanno lasciato il nostro paese e sono venuti qua. Oggi Buenos Aires è la città tra le cinque città italiane, è la cinque città del mondo con più italiani. Voi non state scherzando, ma è così. Se fate il conto degli italiani che sono presenti a Buenos Aires, ce ne sono più che a Bologna. Ora i bolognesi non si arrabbino, quindi fate per bene. È così. Ciascuno di loro è venuto con lo spago nella valigia e tanti sentimenti e tante emozioni. Le stesse emozioni che proviamo di fronte alla bellezza dell'Argentina e che proviamo di fronte alla bellezza dell'Italia. Alla fine questa è l'unica cosa che conta. E quando vi dicono, ragazzi, che il mondo che stiamo vivendo è un mondo brutto, difficile, perché è vero ci sono delle cose che non vanno, ci sono delle cose da cambiare, c'è il terrorismo internazionale, c'è la situazione della povertà da combattere, tutte cose vere contro cui dobbiamo lavorare tutti insieme. Ma ricordatevi sempre che avete una grande opportunità. Essere una generazione che vive finalmente una stagione di pace e che può essere compagna di strada di tutti i giovani del mondo. Se non lo facciamo tra di noi, italiani e argentini, che siamo sempre stati, nazioni e popoli fratelli, non lo potrà fare nessuno. Quindi di conseguenza scusate se arrivo con 18 anni di ritardo, scusate se sono arrivato anche con un'altra mezz'oretta di ritardo, quindi 18 anni e mezz'ora di ritardo. Scusate se vi ho fatto perdere le vacanze oggi e vi hanno costretto con la forza a tornare qui a scuola, ma sappiate che tutti insieme ci aspettiamo moltissimo da voi, perché la bellezza della storia tra Italia e Argentina, lo dico ai rappresentanti delle istituzioni, non è lo struggente ricordo del passato, quello è bellissimo, ciascuno se lo porta nel cuore, ciascuno se lo porta perché ha in mente un… persino io ho dei parenti che sono stati qua per anni, quindi ciascuno ha una piccola storia che si tiene in tasca. Non è il passato la cosa più bella nel rapporto tra Italia e l'Argentina e non è neanche il presente, nonostante che in questi giorni faremo molti incontri, io sono molto ottimista sul futuro delle nostre relazioni e sono convinto che potremo fare moltissime cose tutti insieme, la pagina più bella nel rapporto tra Italia e l'Argentina è il futuro, è ancora da scrivere e cari ragazzi mi sa che toccherà scriverla a voi, noi saremo ben lieti di accompagnarvi. Viva l'Argentina, viva l'Italia e grazie della vostra presenza qui oggi. Grazie. Grazie. Grazie.